Cari simili fratelli e sorelle, gioia, pace e abbondanza a tutti voi. Ogni giorno che viviamo è un dono di Dio, ma noi stessi siamo un dono di Dio, siamo una grazia. Dio è grazia, benevolenza, è amore infinito, che si dona, si partecipa e ama la sua creatura, al punto da fare comunione con essa. Questa è la nostra vocazione, essere oggetto della benevolenza di Dio e trattare con Lui da figli, non come semplici sudditi, peggio ancora come schiavi, come persone oggette di ira e vendetta. Dio ama, ama la sua creatura e l'ama fino alla morte del figlio suo, Gesù Cristo. Oggi, nella liturgia, ascoltiamo un brano del profeta Isaia, dove si racconta che il re Ezechia, che potremmo definire come un santo re, che si preoccupò di disperdere di mezzo al suo popolo ogni segno di paganesimo, per quello che gli fu possibile fare, cercò di mettere in pratica le leggi di Dio date dal Signore a Mosè, riparò il culto che era diventato pagano e per lui però arrivò il momento della prova, si ammalò di tumore e il Signore gli mandò il profeta Isaia a dirgli di prepararsi, perché i suoi giorni ormai volgevano alla fine. E il re, sentito questo, si amareggiò, pianse, si voltò con la faccia contro il muro e pregò, e si rivolse al Signore e gli manifestò il suo cuore addolorato. Dice, tu stai piegando la mia vita come se arrotola una tenda di testitori e mi reciti dall'ordito. In un giorno e una notte mi conduci alla fine. Il Signore, udito la sua preghiera, gli rimanda il profeta Isaia a dirgli che ha ascoltato la sua preghiera e aggiunge quindici anni alla sua vita. E il re chiede qual è il segno che il Signore vuol fare tutto questo e il profeta dice al re che la sua vita continuerà, è il segno che Dio gli dà, è un segno visibile. Guarda l'orologio di Agaz e l'ombra dell'orologio solare torna dietro di 10 gradi, cioè di 20 minuti. e manda a prendere poi una schiacciata di fichi e la mette sulla pianca del re che guarisce. Il Signore cosa vuole? Vuole la sua gloria e il bene dei suoi figli. Ma è possibile che il Signore per i figli faccia questo? Ho citato altre volte il caso di un episodio capitato quando c'era la guerra in Libano negli inizi anni 70. Avvenne che una donna doveva partorire, ma non poteva perché c'era la guerriglia. Ma la donna doveva partorire, non poteva farlo a casa. Allora pregarono e fu indetta una tregua e la donna poteva andare a partorire. E il papà commentava questo avendo dicendo che il Signore per i suoi figli ferma anche il sole, come era avvenuto nel caso del re Ezechia. Si ricorda ancora di madre Teresa di Calcutta, che voleva andare a prelevare 27 bambini in un orfanotrofio, ma non poteva entrare in città appunto a motivo della guerra. Ma le diceva, ma io devo andare, il Signore vuole che io vada. Devo andare. Si mise in preghiera. Fu indetta anche in quell'occasione una tregua tra le parti belligeranti. Lei poteva andare a liberare i bambini, prelevarli e portarli via con sé, senza colpo o ferire. Dio firma anche il sole per i propri figli. C'è una potenza di fede. Quello che Dio vuole da noi fratelli che ci abbandoniamo a questo amore. Stiamo vedendo questo mondo effervescente correre verso la violenza, verso la corruzione, verso l'autodistruzione, verso l'inganno. Cosa chiede, Signore, a me, a te, a ciascuno di noi? La fede, non la rassegnazione a cose inerottabili. La fede che Lui è presente. E la Madonna questo sta operando nella Chiesa. Questo risveglio di fede. In questi giorni qui a Lourdes stiamo vedendo tanti giovani che hanno colpito il cuore di tanti. Non si sarebbero mai aspettato questo. Sì, anche tanti giovani che si incinocchiano, che pregano braccia allargate, con la corona in mano, non persone così indottrinate, persone che stanno cercando e hanno trovato la fede. Il Signore vuole, vuole da tutti noi con questa certezza e questa confidenza che noi crediamo col cuore che Lui vuol di salvarci. Ferma anche il sole, ferma il corso del mondo perché ha tutto nelle sue mani. E Lui chiede a tutti noi il risveglio della fede. E lo troviamo anche nel Vangelo dove si parla di un episodio che i discepoli di Gesù, attraversando un campo, ebbero fame. Allora, presero delle spighe, le sregarono, prenderle il grano e masticarlo. Ma i scrivi e i farisei mormorarono contro Gesù perché era sabato e non era lecito fare questo. Ma Gesù, giustamente, chiede, ma il sabato è per l'uomo o l'uomo per il sabato? Il sabato è per l'uomo. E quindi se non c'è possibilità di evitare un piccolo lavoro, il lavoro si fa. Che Dio, io, dice Gesù, sono più grande del sabato. Ma se non capite questo, dice Gesù ai suoi ascoltatori, vuol dire che non avete capito cosa significa misericordia io voglio, non sacrificio. Quel che Dio ci chiede non è la rinuncia e l'accoglienza della sua grazia. Allora, se ci chiede di rinunciare a qualcosa è finalizzato non al soffrire, al patire, ma al lasciarsi amare, far entrare la grazia di Dio nella nostra vita. Signore Gesù, Tu sei la misericordia del Padre. Ecco la verità. Tu sei la misericordia. E tutto quel rinuncio che il Padre ci chiede è perché regni in noi la sua misericordia. Perché siamo presi dalla sua misericordia, dalla sua grazia, che non solo ci ama, ma ci perdona, ci giustifica, cancella le nostre colpe, fa comunione con noi e fondi in noi il suo Santo Spirito. Signore Gesù ti chiediamo, rinnova tutti noi nella fede. Tu ti vuoi preparare un popolo nuovo su questa terra, non segnato dal diritto e dovere, ma dal spirito d'amore, da grazia infinita. Venga presto questo regno, se noi te lo chiediamo, libera la nostra mente e i nostri cuori da ogni forma di schiavitù, per vivere totalmente nel pieno abbandono all'amore di Dio Padre, che sei tu. Tu sei l'amore del Padre, tu sei la legge del Padre, che ci lasciamo amare da te, fino a che tu dirai tutta la tua vita per la nostra salvezza. A te Gesù gloria, onore e potenza per tutti i secoli, dei secoli. Amen. Mamma Santa, Vergine Santissima, il tuo cuore sarà l'era ogni volta che una creatura si apra il figlio tuo, Gesù Cristo. Tu, come hai partecipato alla passione di Gesù, oggi partecipi pienamente alla sua gloria ed esulti grandemente ogni volta che il cuore dell'uomo si apra l'amore di Gesù, si lascia amare da Gesù. In questi giorni ti preghiamo, rinnova non solo tutti i pellegrini, ma rinnova tutta la Chiesa, perché si abbandoni a quest'amore e confidi in quest'amore fino al punto che il Padre addirittura fermi il sole per salvare i suoi piccoli. A Gesù gloria, onore e potenza per tutti i secoli, dei secoli. Amen. E la gloria del Signore, fratelli, risplenda su tutti voi e si manifesta in voi la potenza del suo Spirito. Amen. Grazie a tutti i secoli. Grazie a tutti i secoli.